Cristian Gennaro, bomber della Juniors degli Orizzonti United, autore già di 5 gol in due partite, gli ultimi due dei quali nella sfida contro l'Aigreville. Un inizio di stagione sicuramente molto positivo per te. Sì, sono molto contento per questi 5 gol, non voglio sicuramente fermarmi. La squadra nelle ultime due partite ha giocato molto bene, abbiamo meritato i 6 punti e adesso siamo primi in classifica a lottare con le altre. Tra l'altro arriva subito una sfida piuttosto difficile contro il Borgaro, squadra tradizionalmente forte a livello giovanile. Che cosa ti aspetti da questa partita? Beh, il Borgaro è stata sempre una squadra ottima, però con i nostri mezzi possiamo giocarcela bene, perché abbiamo un'ottima squadra e riusciremo sicuramente a fare risultati in casa. A livello personale che cosa ti aspetti? Vieni anche convocato per la prima squadra, quindi fai la panchina, sei titolare nella Juniores, che stagione ti aspetti da parte tua? Beh, io credo che nella Juniores spero ovviamente di vincere il titolo regionale per poi fare le finali, come ha fatto il Volpiano l'anno scorso, invece in prima squadra se il mister mi darà l'opportunità cercherò di dare sempre il 110% nel tempo che mi darà a disposizione. Da bomber quale sei? Hai un giocatore al quale ti ispiri? Beh, sì, sicuramente Messi è in discusso il migliore di tutti i tempi, oltre che Maradona.